Benvenute, proviamo questa sera a fare un piatto in questo primo video vedremo come fare la forma del piatto partendo da un'immagine, una jpeg o qualcosa del genere che abbiamo trovato su internet. Primissima cosa cancelliamo tutti gli oggetti che abbiamo, quindi avendo selezionato questa sfera, cancelliamo dopodiché cerchiamo di avere un'immagine di sfondo facendo in questo modo, ok, e prendiamo un'immagine di un piatto, un'immagine qualunque seleziono l'immagine e se è andato tutto bene ecco vedete qui c'è un piccolo difetto perché ho dovuto cancellare cioè non arriva subito, però vedete che abbiamo il piatto a questo punto dobbiamo inserire, adesso non abbiamo nulla se non l'immagine di sfondo, dobbiamo inserire una mesh che però la costruiamo in modo tale da poter fare inizialmente un profilo, quindi magari ci mettiamo di fronte all'oggetto, vedete che ho premuto il tasterino numerico 1 e sono andato sulla fronte, sulla vista frontale con il tasterino numerico 1 e qui voglio costruire praticamente il piatto che parte dal centro va qua, poi voglio farlo alzare un po' qua alzare un pochino qua, fare il bordo, tornare e farlo dentro ok? per fare questo devo aggiungere una mesh vuota quindi faccio mesh, creo una empty mesh vedete che ho questa mesh vado in modalità edit tolgo le eventuali frecce che mi possono dare fastidio vado verso il centro di questa mesh e qui devo costruire il primo punto centrale che poi farò roteare con lo spin, con la rivoluzione ecco, un piccolo trucco per farlo in modo tale che l'oggetto venga scultificato bene non devo andare proprio nel centro in cui vorrò roteare ma devo, premendo CTRL, andare leggermente a sinistra in modo tale devo creare un minuscolo foro quando poi ci sarà la rotazione quindi CTRL questo vedete che c'è un puntino anche se qui si vede male vado avanti qua e vado fino a qua nel momento in cui comincio ad alzare poi il piatto si alzerà fino a qua ok? vedete che c'è la silhouette torno alla minuscetta frontale poi lo faccio alzare ancora leggermente fino al bordo e gli faccio fare un piccolo ok? una piccolo ok? lo faccio tornare fino a qua lo faccio riabbassare ok? e poi ecco magari lo faccio riabbassare un pochino di più fino a qua poi ovviamente lo potete fare come volete e l'ultimo punto lo mettiamo sempre allineato a questo e allineato sotto quindi prendiamo dove avevamo fatto il punto qua e lo allineiamo facciamo l'ultimo punto qua ok? allora adesso vedete che è leggermente storta questa riga per allinearla cosa facciamo? selezioniamo i due punti quindi facciamo A per togliere la selezione selezioniamo i due punti questi che vogliamo che siano allineati perfettamente quindi facciamo un B selezioniamo i due punti ok? e se li vogliamo essere allineati sulla Z facciamo S Z 0 vedete che diventano perfettamente allineati e poi premo il tasto sinistro del mouse una cosa simile la posso fare anche in modo tale che questi due punti siano allineati quindi seleziono i due punti faccio A A e seleziono i due punti due punti e poi faccio S S S X 0 tasto sinistro così sono sicuro che siano perfettamente allineati fra di loro ok? li seleziono tutti quindi A A vedete che sono tutti selezionati vado sulla visuale dall'alto quindi con 7 vedete che sono tutti bene allineati e a questo punto devo fare lo spin la rivoluzione in modo tale da ottenere tutto il piatto per fare la rivoluzione qui scriviamo il 360 gradi di rivoluzione facciamo 36 steps in modo tale da avere una bella una bella cosa tonda e gli diciamo di fare la rivoluzione quindi revolution e abbiamo il nostro piatto fatto facendo a questo punto possiamo dunque allora selezioniamo tutto e rimuoviamo i duplicati ZAF perché durante l'operazione di rivoluzione alcuni punti si sono sovrapposti se non vi rimuove dei duplicati fate attenzione perché può darsi che non abbiate fatto la rivoluzione in un modo perfetto e quindi vi rimangono dei buchi se invece ci sono stati dei duplicati vuol dire che l'operazione è avvenuta bene quindi questo piatto vedete è a posto tra l'altro abbiamo fatto il piccolo trucco di farci un un piccolo foro sopra e sotto il fatto di aver fatto i fori ha reso questo piatto equipollente a un a un cilindro fondamentalmente perché i cilindri sono le cose più facilmente sculptabili quindi andiamo in modalità adesso oggetto e proviamo a sculptificare questo questo signore quindi sculptificare andiamo qua dove c'è script facciamo sculptify objects e vedete che è comparso una nuova texture UV sulla destra e questa texture UV è quella che poi potremmo usare che darà la forma del piatto quindi andiamo qua andiamo di nuovo in modalità edit poi sono tutti selezionati facciamo un render bake sculpted mesh bake sculpted mesh abbiamo questa sculpted mesh che se vogliamo provarla facciamo import as sculpti ci riprendiamo le freccine e vedete che questo è il piatto come verrebbe vedete che viene un pochino più inesatto in second life qui c'è una piccola tecnica che potrebbe aiutare con la versione pro di di jazz che è quello di allineare la griglia tutti i punti del piatto originale quindi qui andiamo tab facciamo o cancelliamo l'oggetto che abbiamo appena inserito torniamo sul nostro piatto che è questo lo selezioniamo quindi lo selezioniamo e andiamo in edit e abbiamo un adesso non mi ricordo mai dovrebbe essere alt g ecco alt g vedete che ha fatto un mestiere allineato tutto alla griglia in questo modo abbiamo modificato leggermente i punti facciamo rirenderizziamo zac e poi l'immagine così ottenuta la possiamo salvare e questo sarà il nostro c blender blender piatto punto sculpted punto tga sarà informato dunque si in realtà sopra dobbiamo mettere questo e sotto mettiamo piatto punto sculpted punto tga ok salve immagine perfetto e con questo abbiamo terminato la prima parte cioè la parte che descriveva come fare la forma del piatto se vi sembra che il piatto sia un pochino troppo rigido potete fare dei smooth o dei subsurf aggiungere i modificatori quello che volete ma a occhio e croce dovrebbe essere già sufficiente fatto così quindi ci sentiamo alla prossima corso in cui faremo la cosa la texturizzazione la UV map e la texturizzazione ciao